Il primo martedì del mese cerchiamo di avere delle risposte chiare ed esaurienti in tema di fisco. Buongiorno e benvenuta Silvia Schiavone della Direzione Provinciale di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate. Allora, dottoressa, cominciamo con le scadenze fiscali del mese di dicembre. Quali sono le date da ricordare? Per i contratti di locazione che non sono i regimi di cedolare secca, ci sono sempre 30 giorni dalla data di stipula o di decorrenza per i versamenti e gli adempimenti richiesti. Invece, per i contratti che sono in cedolare, l'acconto per il versamento dell'imposta istitutiva è scaduto il primo dicembre. Ancora il 17 dicembre è l'ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte ritenute non effettuati con la maggiorazione di interessi legali e sanzioni ridotte al 3%. Oggi ci occupiamo in particolare di rimborsi. Allora, in quali casi il contribuente ha diritto al rimborso? In generale, il contribuente ha diritto al rimborso quando versa un'imposta maggiore della dovuta. E questo può accadere per le imposte sui redditi, ad esempio l'IRPEF, ma anche nel caso di imposte minori, quali quelle del registro. Modalità e tempi di erogazione variano da seconda del tipo di imposta e delle cause che ne hanno determinato il diritto. Ci aiuta sempre la grafica mentre parliamo naturalmente. La tipologia dei rimborsi che riguarda la maggior parte di noi è quella sul modello di dichiarazione 730. Parliamo di questo tipo di rimborso e delle ultime novità. Che cosa deve fare il contribuente? Il caso più comune riguarda appunto lavoratori dipendenti e pensionati che grazie alla compilazione del 730 possono indicare le spese che hanno sostenuto e per le quali è prevista un'agevolazione e quindi usufruire così di un rimborso tempestivo per mezzo del loro sostituto di imposta, datore di lavoro o ente pensionistico. Si tratta ad esempio delle spese sanitarie, di ristrutturazione edilizia e di qualificazione energetica, gli interessi sul mutuo immobiliare. L'Agenzia sulla base della dichiarazione presentata ricalcola l'imposta dovuta e quando questa sia inferiore alla versata restituisce la differenza sotto forma di rimborso. Dal 2013 ci sono poi alcune novità. È stata introdotta la possibilità di presentare il modello 730 anche per chi pur avendo reddite da lavoro dipendente che non ha più sostituto di imposta, per esempio perché ha perso il lavoro. Questo grazie al fatto che il rimborso verrà erogato direttamente dall'Agenzia. Altri due casi particolari sono i rimborsi per carichi di famiglia e eccedenza di imposta superiori a 4.000 euro derivanti da anni precedenti. In questi casi, pur in presenza di 730 con sostituto, sarà sempre l'Agenzia a derogare il rimborso previo a un controllo in tempi accelerati. Come sono pagati i rimborsi? Dipende dalla disponibilità delle coordinate bancarie e del cosiddetto codice IBAN. Se il contribuente fornisce il codice IBAN all'Agenzia, avrà il rimborso di qualsiasi importo direttamente in conto. Diversamente, potrà riscuoterlo in contanti presso l'ufficio postale o tramite vaglia a seconda dell'entità della somma. Questo dopo aver ricevuto comunicazione di conferma da parte dell'Agenzia. Il contribuente per chiedere l'accredito in conto corrente, accelerare la procedura, che cosa può fare? Può utilizzare l'area autenticata sul sito intern dell'Agenzia se è in possesso dell'abilitazione di servizi telematici, oppure recarsi presso qualsiasi ufficio territoriale dislocati nel paese. In questo caso dovrà compilare un modulo che si trova anche su internet e allegare un documento di identità in corso di validità. E invece per informarsi sullo stato del suo rimborso, il contribuente, quale cosa può fare? Può andare sul sito internet attraverso il servizio cassetto fiscale, sempre se è in possesso dell'abilitazione di servizi telematici, oppure per telefono al call center 848 800 444 al costo di una telefonata urbana, oppure recarsi direttamente presso un ufficio territoriale. Quindi l'iscrizione ai servizi telematici è utile? Ci dia questo consiglio? Cosa bisogna fare poi per ottenere l'abilitazione? Per essere abilitati a Fisco Online si può attivare la procedura direttamente sul sito dei servizi telematici, oppure recarsi in agenzia, anche in questo caso con il documento di identità. Una cosa importante che volevo aggiungere è che l'agenzia delle entrate non chiede mai dati sulla carta di credito, quindi se si dovesse ricevere un'email apparentemente proveniente dall'agenzia delle entrate in cui si chiedono questi dati per ipotetici, rimborsi, eccetera, attenzione perché si tratta di un tentativo di truffa. L'agenzia può chiedere solo il codice IBAN. Grazie, ha fatto benissimo anche a darci questa precisazione perché appunto succedono molto spesso queste truffe. Grazie, grazie a Silvia Schiavone dell'agenzia delle entrate. Grazie a voi.